In diesem Video gibt es ein Wort, die oft verwechselt werden. L'ho formulato al passivo, qui l'ho scritto invece con Mann. Es gibt ein Wort, die man oft verwechselt. Parole che si confondono spesso. Come è nata questa lista? Beh, in realtà sono errori tipici di studenti italofoni che scrivono testi, in particolare durante gli esami di maturità, ma non solo. E quindi è nata una piccola guida che abbiamo chiamato Vademikum zum Aufsatz. E in questo video voglio appunto presentarvi alcuni di questi errori. Bene, partiamo dalle prime parole che spesso gli allievi confondono o che non riescono appunto a capire bene. Partiamo da Tima, scritto con TH, Argument e poi Aufsatz. Perché spesso in italiano abbiamo anche parole simili. Tema, argomento. Poi in realtà bisogna capire quando si usano e che cosa sono. Ma vediamo in dettaglio. Se io voglio dire Tema nel senso di argomento, nel senso di tematica, userò DAS TEMA. Potrei anche dire DIGENSTAND, però in realtà è più usato TEMA. Vediamo un esempio. DAS IST EIN INTERESANTES TEMA, che appunto si può tradurre con questo è un argomento, è un tema interessante, quindi in questo caso è la tematica. Potrei anche dire DAS IST EIN HEIKLES TEMA, se è un tema delicato. Potrei anche dire DAS IST EIN ATTUELLES TEMA, se è un tema d'attualità oppure un tema attuale. Posso anche dire ICH MÖSCHI DAS TEMA WECHSELN, se voglio appunto desidero cambiare il tema. Poi abbiamo questo vocabolo, DIGENSTAND, che viene anche usato, per esempio se io sto facendo una presentazione, quindi il tema, sarebbe il soggetto in realtà, però è anche sinonimo di tema, quindi ALS DIGENSTAND SEINES VORTRAGTS WELTE DER RETNER TAS CORONAVIRUS, quindi come tema o come soggetto della sua presentazione, o della presentazione perché poi il tedesco usa molto di più i possessivi rispetto all'italiano, l'oratore ha scelto o scelse appunto il tema del coronavirus, che adesso è comunque un tema molto d'attualità. Poi abbiamo in tedesco il vocabolo ARGUMENT, TAS ARGUMENT, di ARGUMENTE, che corrisponde sia ad argomento, ma non più nel senso di tema o tematica, ma nel senso di argomentazione, quindi è il punto dell'argomentazione, quando devo argomentare, devo quindi portare argomento ultimali, di a sostegno di una tesi. Si dirà quindi DAS ARGUMENT FÜR, quindi a sostegno, ODER GIGEN, etwas più accusativo. Si noti anche l'ortografia ARGUMENT, rispetto all'italiano si dice ARGUMENT o ARGUMENT, c'è questa U. Vediamo un esempio. Quindi gli ambientalisti hanno tanti buoni argomenti contro gli esperimenti sugli animali, non sono contrari, quindi porteranno degli argomenti contro, contrari. Quindi si dice argomenti DAS GIGEN oppure argomenti GIGEN, TAS FÜR, quindi se esprimo contro gli esperimenti sugli animali dovrò utilizzare la preposizione GIGEN, più accusativo, altrimenti se so già di cosa parlo dirò argomenti DAS GIGEN, che sono gli argomenti contrari. Quindi l'espressione idiomatica sarà argomente, al plurale, FÜR o DAS GIGEN qualcosa, per esempio TIER VERSUCHE ANFÜREN oppure FORBRINGEN, quindi PORTARE. In Italiano c'è anche il verbo ADDURRE, che magari non usate, ma comunque è la forma corretta, quindi quando si portano argomenti PER o CONTRO qualcosa. Poi abbiamo anche il verbo ARGUMENTIEREN, quindi si può anche DAS GIGEN argomentare, quindi posso anche argomentare a favore o CONTRO una determinata tesi, come in questo caso il tema degli esperimenti sugli animali. Vediamo ora il termine italiano TEMA. Come si può tradurre TEMA in tedesco? Allora, innanzitutto abbiamo quello che è il componimento scritto, quindi il tema che si scrive a scuola, che in tedesco non è il tema, innanzitutto, quindi il tema THEMA, ma è der Aufsatz. Questo è un errore tipico che anche fanno gli allievi, quindi quando scrivono, che scrivono il tema, scritto TEMA. In realtà scrivono, si schreiben also den Aufsatz. In der Schule schreibt man Aufsätze. Il plurale appunto è Aufsätze. In der Schule schreiben wir heute einen Aufsatz, quindi scriviamo un tema, scriviamo un componimento. Poi abbiamo ancora TEMA, nel senso di tema-argomento che abbiamo visto precedentemente, quindi da STEMA, il plurale appunto TEMEN. Dieses tema ist sehr interessant. Dieses tema interessiert mich sehr. Ich habe dieses Thema gewählt, weil es sehr interessant ist. Vediamo ora due termini che sono abbastanza problematici e che letteralmente fanno girare la testa. Schuld è la colpa, Schulden sono i debiti. In pratica non c'è il plurale di Schulden, non si può dire Schulden, perché se dico Schulden sto dicendo debiti. Spesso quindi quando ci si occupa di autori come Kafka, come Dürrmatt, c'è il problema della colpa, di chi è la colpa, di chi sono le colpe. E se vogliamo dire colpe dovremmo quindi utilizzare un'espressione come Schipfile Arten von Schuld, perché se diciamo Schulden parliamo di debiti. Allora, la colpa abbiamo detto c'è solo al singolare, quindi di Schuld e non possiamo mettere di Schulden, non si può fare. Esempio, eratte Schulden an dem Unfall, quindi lui era colpevole dell'incidente o letteralmente aveva la colpa per l'incidente, an più dativo, quindi Schuld, femminile, ann richiede poi il dativo. Come esistono i verbi con una preposizione fissa, esistono anche i sostantivi con una preposizione, come in questo caso. Poi abbiamo appunto Schuld, al singolare, nel senso di debito, però più usato al plurale, Schulden, i debiti. Pensiamo per esempio di Legende von Heiligen Trinken, di Josef Roth, anche qui vuole restituire il suo debito nei confronti appunto di un signore che ha incontrato che gli ha dato del denaro, vuole restituire un datant, come dice lui, siamo a Parigi, e lui ha questo compito di restituire i suoi debiti. Ecco, die Schulden, ermacht viele Schulden, quindi il plurale si usa in questo caso, ma non viene usato invece per la colpa. L'espressione essere colpevole si tradurrà quindi con Schuld sein oppure Schuldig sein, come in questo caso. Er ist daran schuld, wenn ich zu spät komme. È colpa sua se vi in ritardo, se arrivo in ritardo. Ecco, daran è un avverbio pronominale e viene inserito comunque nella frase principale prima della subordinata. È molto tipico anche nelle frasi infinitive. Poi c'è anche l'espressione by weim liegt di Schuld, quindi by weim, no? Presso chi già c'è la colpa, letteralmente. In italiano diremmo di chi è la colpa. Wer ist schuldig oder wer ist schuldig? Chi è il colpevole? Schuldig può essere appunto sostantivato e quindi si declina da schuldig in schuldig. Bene, passiamo ora al verbo cercare. Spesso si sbaglia quando si vuol fare l'infinitiva, ad esempio se voglio dire cercare di rispondere, cercare di, quindi abbiamo l'infinitiva. Innanzitutto non è suchen, ma è versuchen il verbo, quindi cercare nel senso di provare, di tentare. E quindi richiede la frase infinitiva, da non confondere con la finale. Infinitiva è una frase che ha zu nella parte, diciamo, nella seconda parte della frase, quindi non ha um, um zu invece è la finale. Abbiamo quindi questo esempio, ich habe versucht deine Frage zu beantworten, quindi ho cercato di rispondere alla tua domanda. Abbiamo quindi la principale, la virgola, abbiamo poi la frase infinitiva, il verbo preceduto da zu. Quindi quando vogliamo dire cercare di, dovremmo sempre utilizzare versuchen e fare l'infinitiva. Poi c'è il verbo cercare, cercare qualcosa che conoscete. Quando per esempio cerco un oggetto, ich suche zum Beispiel, wo ist mein Pleist, ich suche jetzt meine Pleist, ich finde ihn nicht. E poi abbiamo anche visto il verbo con preposizione, cercare, quando per esempio cerco la soluzione in alcune espressioni, avremo la preposizione na, suchen na più dativo. Quindi se dico cerco i funghi, dico wir suchen pils, mentre se voglio dire wir suchen nach der Lösung des Problems, dovrò utilizzare il verbo con preposizione. Quindi dovremmo quindi imparare le espressioni che richiedono il na. Nei dizionari sono comunque, si trovano sempre tanti esempi. Adesso mi sto chiedendo come devo tradurre chiedere. Ecco chiedere, chiedere si traduce ad esempio con jemandem fragen nach. Quindi ci fa capire che fragen richiede l'accusativo, ich frage dich, e poi abbiamo anche la preposizione, quindi nach più dativo. Vediamo un esempio. Er hat mich nach dir gefragt? Mi ha chiesto di te. Lui mi ha chiesto di te. Quindi abbiamo, in italiano abbiamo mi, in tedesco abbiamo mich. Poi di te si traduce con la preposizione nach dir, nach con il dativo. Quindi fragen con l'accusativo, che qui già questo è problematico, perché è un verbo che in italiano richiede il complemento di termine. Se invece voglio chiedere, porre a qualcuno una domanda, jemandem eine Frage stellen? In questo caso avremo il dativo. Jemandem, infatti, eine Frage, una domanda. Quindi porre una domanda a qualcuno. esempio. Er hat mir auch eine Frage gestellt? Er, quindi lui, ha posto anche a me una domanda. In questo caso abbiamo il mir, a me, al dativo, come in italiano. Il mir deve andare prima perché quando abbiamo un pronome e un sostantivo in tedesco si mette prima il pronome al dativo e poi l'accusativo normale. Se avessimo avuto due pronome avrei avuto prima l'accusativo, poi il dativo. Bene, bene. Adesso vediamo un altro modo di tradurre il verbo chiedere. Chiedere per ottenere. Ecco, questo è un altro verbo con preposizione, è sempre con l'accusativo, jemandem bitten um, e poi c'è anche l'accusativo dopo la preposizione um, è un verbo irregolare. Quindi, bittet bad ad gebeten. Si presenta, per esempio, in questo caso. Er hat mich um einen gefallen gebeten? Lui mi ha chiesto un favore. Il favore si dice dir gefallen. Quindi fallen è cadere ma non c'entra niente. Esiste anche gefallen, che vuol dire piacere come verbo. e abbiamo quindi il favore. Dir gefallen è maschile. Quindi, se voglio chiedere un favore, devo dire um einen gefallen bitten. In questo caso la frase è al perfect, per cui lo abbiamo gebeten. Studiate sempre molto bene i paradigmi di questi verbi. Da non confondere, evidentemente, con altri verbi, che sono ad esempio anbieten, bittet an, but an, e hat angeboten, che vuol dire offrire. Per esempio, si hat mir etwas zum trinken angeboten, mi ha offerto qualcosa da bere. In questo caso abbiamo il dativo, anbieten, che è il dativo per la persona, e poi etwas, ein Glas Wein, per esempio, oder ein Glas Wasser, sie hat mir etwas zum trinken angeboten. E poi abbiamo un altro verbo che assomiglia, che è bitten, bittet, gebetet. In questo caso è un verbo debole, quindi un verbo regolare, che significa pregare, che è accompagnato da alcune preposizioni. Vediamole. Wir bitten zu Gott, quindi noi preghiamo Dio, in tedesco obbligatoria questa preposizione, bitten zu, oppure abbiamo anche il caso Wir haben für einen kranken Menschen gebetet, abbiamo pregato per un ammalato, una persona ammalata, quindi in tedesco usiamo Mensch, che è in declinazione, quindi all'accusativo diventa einen kranken Menschen. Notiamo il paradigma di questo verbo, gebetet, che è regolare, mentre prima avevamo gebeten, per il verbo bitten, e angeboten, per il verbo unbitten, quindi si assume, e mi serve molta attenzione. Attenzione al paradigma di questi tre verbi, offrire, abbiamo poi pregare, e abbiamo poi chiedere, che appunto, o anche pregare, perché il perfect di bitten e di bitten è molto simile, quindi bitten è regolare, quindi gebetet, at gebetet, mentre bitten è gebetet, con en. Queste parole creano anche qualche problema. Der tut si scrive con la D, ma si pronuncia a T ed è maiuscolo, tut come aggettivo, quindi con la T, töten come verbo e sterben. In realtà sono cose diverse, però i ragazzi si confondono. Abbiamo infatti, la prima parola è der tut, la morte. Innanzitutto è maschile, D è tut, in italiano è femminile, e c'è questa D finale. Der tut in Venedig is a novelle von Thomas Mann, quindi la morte a Venezia è una novella di Thomas Mann. Poi abbiamo l'aggettivo, tut, con una T, in minuscolo quindi, evasso for tut, quindi in questo caso è morto subito, va, after stelle tut. Può essere scritto in maiuscolo se viene sostantivato, quindi se io per esempio metto un articolo, lo declino, der tut per la prima declinazione, oppure ein tuter per la seconda declinazione, oppure zwei tute, due morti, per la terza declinazione, quindi quelli che non sono preceduti da articoli, ma come in questo caso da numeri. Poi abbiamo anche il verbo tötten, che è uccidere, quindi non c'entra più con, non è morire evidentemente, ma spesso i ragazzi si confondono. Tötten è un verbo regolare, quindi tötet e getötet, er tötete seine freundin aus eifersucht, quindi ha ucciso, o anzi, uccise al preteritum la sua ragazza o la sua amica per gelosia. Per gelosia si traduce in questo caso con la preposizione aus, è un'espressione, per gelosia, aus eifersucht. Poi abbiamo appunto il verbo sterben, sterben appunto un verbo regolare, stirbt, starb, is gestorben, conosce via essere come in italiano, è morto, da und ist plötzlich gestorben, è morto improvvisamente, povero cane. Poi abbiamo sterben an, più dativo, che è un verbo con preposizione, normalmente si usa per le malattie, quindi der Mann ist an einer Krankheit gestorben, potremmo anche dire an einem Herzinfarkt gestorben. L'altro problema è opera, dipende da che cosa si intende. Se con opera intendiamo un'opera musicale per il teatro, dovremmo tradurre con di upa, il plurale è upern con la n. Don Giovanni ist Mozart's letzte upa, Don Giovanni è l'ultima opera di Mozart, in questo caso quindi è chiaro che cosa vuol dire upa, Ma se vogliamo dire l'opera artistica, quindi l'opera anche nella letteratura, quindi più in generale, non potremmo parlare di uper, ma dovremmo parlare di werk, das Werk, die Werke. Se per esempio, non so, per l'esame di letteratura dobbiamo leggere tre opere, dobbiamo analizzare tre opere, parleremo di werke, non si può parlare di upern. Vediamo alcuni esempi. Das ist eine vollständige Ausgabe der Werke Brechts. Questa è un'edizione completa delle opere di Bertolt Brecht. Poi abbiamo un altro problema, è l'uso del plurale di Wort. Wort ha due plurali, ha Worte e Wörter. Ma qual è la differenza tra Worte con la E i Wörter con umlaut e R. Allora, se io sto parlando della parola, e quindi dei vocaboli, o delle singole parole, per esempio quelle che stiamo facendo adesso, dovrò parlare di Wörter. Das Wort, il singolare, die Wörter, quindi umlaut e R. Esempio, Ich habe heute ganz schiedige Wörter gelernt. Nein, die sind nicht schiedige, die sind ganz einfach. Oppure l'abbiamo anche nel vocabolario. Das Wörterbuch, quindi la parola Wörterbuch, contiene appunto questo sostantivo al plurale. Se invece io intendo le parole, ma nel senso del discorso che qualcuno può fare, per esempio un oratore durante un intervento, allora parleremo di Worte. Vedete, è facile, no? Il singolare, quindi das Wort, e poi abbiamo di Worte. Se ne Worte, e poi chiaramente devo mettere il plurale, Waren Hart, le sue parole, quindi il suo discorso, era, in italiano diciamo era, in tedesco waren, perché appunto è un plurale, waren, war hart, e in italiano iraduro. C'è anche l'espressione in wenigen Worten, in poche parole. Vediamo ora alcuni verbi che creano problemi alle nostre allieve e ai nostri allievi. Wissen, Kennen e Kennen Lernen. Partiamo dal primo verbo, Sapere. Sapere si traduce con Wissen, ed è un verbo irregolare, è un verbo del terzo gruppo, quindi è un verbo misto, Ich weiß, Tu weiß, Er weiß, quindi senza E e senza T alla prima e alla terza. Wir wissen, ihr wisst, Sie wissen. Il pretetum è Wuste, quindi è irregolare, cambia la vocale, però le esigenze di un verbo debole, perché appunto T, Testi, T, Testi, e poi abbiamo Ad gewust, quindi abbiamo la radice che cambia, quindi la U, e poi la T come tutti i verbi misti. Esempio, Ich weiß, dass er krank ist. Io so che lui è malato. Con il verbo wissen abbiamo quasi sempre una frase subordinata, Io so che, quindi userò Ich weiß e poi ho una subordinata. Un altro esempio, Er weiß, wovon er redet. Lui sa di ciò che parla. Er weiß, wovon er redet. Poi abbiamo un altro verbo, che è sapere, nel senso di conoscere, quindi il verbo kennen, che tra l'altro richiede un complemento oggetto, un verbo anche qui misto, quindi del terzo gruppo, kannte al preteritum, gekannt, quindi con la vocale A e non con la vocale O, perché quello sarebbe poi können, che è il verbo modale können, potere essere in grado di, per esempio. Ich kenne ihn nicht, non lo conosco, ich kenne ihn nicht, quindi in questo caso abbiamo un complemento oggetto, non posso mettere il verbo wissen, ma devo usare per forza il verbo transitivo kennen. Poi abbiamo il verbo conoscere, quando si fa la conoscenza per la prima volta, in questo caso devo usare kennenlernen, si può scrivere anche staccato, secondo la nomotografia ci sono entrambe le possibilità. Per esempio, ich habe ihn, se mi riferisco a un uomo, oppure ich habe sie, una donna, vor zwei Wochen kennengelernt, l'ho conosciuto o l'ho conosciuta due settimane fa. Anche questi due verbi, lernen e studieren, presentano a volte alcune difficoltà ai nostri allievi e ai nostri allievi. Imparare e studiare si traduce con lernen quando per esempio io dico ich lerne immer aus meinen vielen. Imparo sempre dai miei errori. Imparare dagli errori. Si dice ich lerne aus meinen vielen. Imparo dai miei errori. Qui si può tradurre in italiano solo con imparare dagli errori. Però abbiamo casi come qui. Ich habe heute studiato due ore di tedesco. Però si usa lernen, non si può usare studieren. Perché? Perché studieren significa studiare, cioè essere immatricolato all'università. Quindi Mein Bruder studia Psicologie in Zürich. Mio fratello studia psicologia in Zürich. Di conseguenza quando vogliamo dire essere all'università nel senso di essere immatricolato e studiare dovremmo dire studieren. Diremo invece lernen quando studiamo alla scuola media, al liceo, in tutte le altre situazioni quando si studia una lingua. In realtà se io dico ich lerne Deutsch vuol dire che sto studiando la lingua tedesca. Se dico ich lerne Deutsch anzi se io dico ich studiere Deutsch significa che sto studiando all'università quindi germanistica letteratura tedesca quindi a un livello più alto. Ich studiere germanistica wenn ich Deutsch studiere aber wenn ich jetzt eine Sprache lerne dann sagt man ich lerne Deutsch. Vediamo ora due termini che si confondono spesso der Fernsehen e das Fernsehen. Il secondo das Fernsehen significa la televisione può essere inteso come lente televisivo può essere inteso quindi come televisione per esempio la RSI è la televisione del Ticino das Fernsehen also der italienischen Schweiz. Gestern sah ich einen spannenden krimi im Fernsehen poi posso usare l'espressione vedere alla televisione devo usare vedere più im Fernsehen non posso però usare il verbo Fernsehen con il complemento gesto quindi io posso semplicemente dire con Fernsehen ich sehe nicht auf CER non guardo così spesso la televisione poi abbiamo l'apparecchio il televisore der Fernse può essere anche der Fernse quindi un'altra parola per dire televisore o anche di glozio in senso colloquiale comunque der Fernse posso quindi dire im von sim leufter Fernse posso anche dire ich sitze die ganze Zeit vor dem Fernse quindi sono seduto tutto il giorno davanti alla televisione vediamo adesso due verbi che creano problemi Handel può essere riflessivo e quindi avrà una preposizione sich handeln um e quando non è riflessivo avrà la preposizione von in realtà sarà es handelt sich um e quando invece non è riflessivo la preposizione sarà von trattarsi di e trattare di ma vediamo più in dettaglio di che cosa si tratta quando dico ad esempio so il libro parla di in tedesco non si può dire das wo spricht über assolutamente no bisogna usare trattare useremo quindi handeln von più dativo quindi si dice trattare avere come quindi argomento avrò quindi la frase dieses Buch handeln von einem kleinen questo libro tratta quindi ha come tema questo 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 giovane questo giovane ragazzo dirò quindi handeln von einem dativo e poi en per l'aggettivo e anche la n perché in questo caso da jung è in declinazione oppure potrò usare il verbo handeln il verbo riflessivo sich handeln um e avrà quindi la costruzione is handelt sich um anche in questo caso si tratta di avremo quindi e qui bisogna fare attenzione alla preposizione perché se prima il soggetto della frase era il libro adesso il soggetto è is è un soggetto impersonale avremo quindi bei diesem Buch si usa la preposizione bei bei diesem Buch handelt es sich um einen kleinen jungen e poi è tutto accusativo ed è la questione più difficile però ci sono in realtà delle varianti più semplici invece di dire es handeln sich um si può semplicemente dire in diesem Buch geht es um einen kleinen jungen questo libro si tratta di un eccetera eccetera quindi il tema è quello di un giovane ragazzo attenzione quindi se usiamo il verbo riflessivo handeln sich handeln dovremmo mettere bei all'inizio poi dovremmo mettere il soggetto impersonale es il sich e la preposizione um con l'accusativo se invece usiamo es geht um dovremmo dire in diesem Buch per esempio quindi in col dativo geht es um più accusativo vediamo ora occupiamoci di studi in realtà in tedesco c'è das studium e c'è die studie ma che cosa sono queste parole allora esiste das studium soltanto al singolare in tedesco che sono gli studi per esempio gli studi universitari anzi solo gli studi universitari dieses studium dauert fünf Jahre quindi quando si parla di studi universitari si dirà das studium al singolare non potrò quindi usare il plurale perché non esiste per questa parola se voglio dire dopo gli studi dirò quindi nach dem studium o nach meinem studium möchte ich im Ausland arbeiten dopo gli studi voglio desidero anzi lavorare all'estero e poi abbiamo di studie che ha il plurale invece con la n che significa lo studio la ricerca per esempio das ist eine studie über die Frauenbewegung quindi è una ricerca sul movimento delle donne quindi sul femminismo di Frauenbewegung che è molto importante quest'anno in Svizzera perché appunto ricorre anche l'anniversario dell'introduzione di voto per le donne bene abbiamo tre parole che spesso vengono confuse dalle nostre allieve e dei nostri allievi si tratta di einzig eigen e einige in realtà sono molto simili ma sono molto diverse einzig vuol dire unico per esempio das ist die einzige richtige Lösung poi abbiamo eigen che vuol dire proprio ich habe kein eigenes zimmer leider e poi abbiamo einige alcuni einige schüler einige schülerinnen haben am kurs nicht teil genommen hanno bigiato alcuni hanno partecipato al corso alla lezione also einige schüler und schülerinnen haben geschwänzt schwenzen vuol dire bigiare quindi marinare la scuola vediamo ora due congiunzioni che si confondono spesso come si può tradurre se in tedesco allora si può tradurre con ob o con wenn quindi entrambi significano se ma sono diverse ob innanzitutto introduce un'interrogativa indiretta ad esempio erfragt mich ob ich hilf brauche in tedesco si chiamano indirekte fragen quindi domande indirette interrogative indirette le domande indirette quindi che non hanno nessun tipo di connettivo testuale avranno sempre ob nelle domande indirette se la domanda diretta infatti è fragte mich brauchst du hilfe hai bisogno di aiuto la risposta può essere sempre sì oppure no ja oder nein ja ich brauche hilfe nein ich brauche keine hilfe quindi quando in questi casi la risposta è o ja o nein potremmo costruire la frase diretta la domanda indiretta o la interrogativa indiretta con la congiunzione op nel caso in cui invece abbiamo già il fragevort varrum di eccetera in questo caso manterremo la particella iniziale e metteremo comunque il verbo alla fine poi abbiamo ven che significa se che è spesso sinonimo di false false significa nel caso in cui quindi quando io nella frase in cui ho ven posso sostituirlo con nel caso in cui come in questo caso se ho tempo ti aiuto nel caso in cui ho tempo ti aiuto allora sarà sempre ven mentre nella frase precedente non si poteva sostituire op in quel caso con nel caso in cui poi abbiamo anche ven quando abbiamo il congiuntivo due in tedesco quindi frasi che hanno ven ich keine Zeit hätte würde ich dir nicht helfen quindi in italiano abbiamo il congiuntivo e il condizionale il congiuntivo imperfetto ven ich also keine Zeit hätte se non avessi tempo non ti potrei aiutare però ho tempo ti aiuto quindi quella è la frase reale quindi le bedingungs set le condizional set e così si chiamano in tedesco vediamo ora la parola strada avremo due termini diciamo uno più concreto e uno più figurato quello concreto è di strasse la strada di strasse nel plurale tra l'altro è accompagnato in tedesco non dalla preposizione in ma da auf perché è un luogo aperto quindi in tedesco non si usa in con la parola strada almeno in questo contesto avremo quindi un altro termine per dire la strada nel senso della via in senso figurato si parla di weg quindi liebensweg se io per esempio voglio seguire la mia strada non devo posso dire evidentemente meine strassen gehen ma dovrò dire ich möchte meinen eigenen weg gehen e quindi con l'accusativo in questo caso poi abbiamo due termini che spesso i ragazzi si confondono ed è l'umanità ecco l'umanità si può essere tradotta con menschheit e con menschlichkeit allora umanità nel senso della popolazione della terra l'umanità tutte le persone alle menschen der welt è semplicemente di menschheit quindi si prende mensch che è maschile e si aggiunge height e diventa femminile perché height ha sempre il femminile quindi questa frase d'attualità purtroppo in questo periodo con il coronavirus quindi diremo die ganze menschheit quindi attenzione mensch e poi height quindi ci sono due h ist von der pandemie betroffen quindi tutta l'umanità è colpita dalla pandemia oppure das ist die Geschichte der menschheit la storia dell'umanità se invece voglio dire umanità nel senso di qualità dell'essere umano dirò di menschlichkeit menschlichkeit quindi aggiungiamo l'ich e poi kalt avrò quindi in diesem Buch geht es um menschlichkeit güte und toleranz in questo libro si parla o si tratta di umanità bontà e tolleranza si noti che in tedesco tolleranz ha appunto una sola L tre parole che alcuni confondono mensch man e man in realtà sono cose completamente diverse mensch e man sono in maiuscole sono due sostantini man invece è un pronome ma partiamo da uomo nel senso di essere umano si traduce con der mensch fa parte della indeclination quindi si declina a tutti i casi ad eccezione il dominativo maschile prenderà quindi l'asidenza en si contrapone spesso al vocabolo animali quindi si parla di uomo e animale menschen und tiere leiden unter der einsamkeit quindi gli uomini le persone e gli animali soffrono di solitudine abbiamo anche menschenrechte che sono i diritti dell'uomo oggi si dice anche i diritti umani in cui menschen appunto è l'essere umano i diritti umani è una parola composta das recht die rechte diritto das recht e poi abbiamo uomo nel senso di maschio o di marito in questo caso si deduce con der Mann con due n il plurale di Männer ein Mann und eine Frau quindi l'uomo e la donna e poi abbiamo il sie il pronome impersonale Mann che è sempre in tedesco alla terza persona singolare ed è in minuscolo chiaramente se avessimo qualcosa inizio frase avremo inversione qui adesso l'ho messo per far vedere che è in minuscolo chiaramente se cominciamo la frase dobbiamo scriverlo con la maiuscola Mann sagt ho et das poi abbiamo anche un esempio che non avevo visto di gleich behandlung zwischen Mann und Frau l'uguaglianza tra uomo e donna vediamo adesso due verbi che alcuni confondono si tratta del verbo lasciare che può avere la traduzione di lassen e di verlassen quando lasciare è un verbo semimodale avrà il paradigma lest lis che lassen ma a volte anche soltanto lassen perché è un doppio infinito ma vediamo per ripetere un po' questa problematica allora quando io ho una frase con il verbo lassen quindi voglio dire per esempio che ho lasciato in bagagli in corridoio dirò ich hab di koffer in flur gelassen userò quindi il perfect gelassen tranquillamente quando invece abbiamo una frase come l'ho lasciato parlare e abbiamo quindi il verbo reden abbiamo quindi un secondo verbo nella frase non dirò gelassen ma dirò semplicemente ich hab in reden lassen l'ho lasciato parlare l'ho fatto parlare in pratica è una specie di verbo modale forma il perfect esattamente come i verbi modali al perfect con questo doppio infinito un altro esempio in tedesco abbiamo l'espressione sich schieden lassen che poi in italiano è divorziare in tedesco riflessivo mein Eltern haben sich schieden lassen i miei genitori hanno divorziato in tedesco sarà haben sich schieden lassen anche in questo caso abbiamo appunto il perfect con il doppio infinito quindi con schieden e con lassen poi abbiamo l'altro verbo il verbo lasciare nel senso di abbandonare per esempio eine Person kann man verlassen oder einen Ort quindi si può lasciare una persona un ragazzo una ragazza il marito la moglie einen Ort un luogo ecco in questo caso il paradigma è verlässt verlies verlassen abbiamo anche qua un esempio mia cugina ha lasciato suo marito quindi in questo caso non si dirà milassen ma verlassen quando quindi lasciamo qualcuno qualcosa ma a volte crea problemi si può tradurre con Ava e con Zondan innanzitutto Ava e Zondan richiedono la costruzione normale quindi soggetto verbo quindi introducono una principale non hanno nessun tipo di inversione non hanno nessun tipo di problema si chiama posizione nulla null posizione posizione zero in italiano quindi è come se non ci fossero da un punto di vista appunto sintattico ma si dice appunto con Ava ad esempio in questa frase Ich bin zwar müde aber ich gehe noch nicht ins Bett sono certamente stanco ma non vado ancora a letto e poi abbiamo il ma avversativo nel senso di bensì quindi nella prima parte della frase spesso abbiamo anche anzi inobbligatoriamente abbiamo una negazione quindi Ich habe es nicht wegen dir o meglio ancora Deine wegen con il genitivo getan non l'ho fatto a causa tua Sonnen wegen deiner Eltern ma a causa dei tuoi genitori quindi quando abbiamo in questo caso una contrapposizione e una negazione nella prima parte della principale dovremmo mettere Zondan nella seconda frase un problema con i pronomi attenzione se abbiamo il man dovremmo riprenderlo con man se abbiamo Iman dovremmo riprenderlo con er attenzione man non si può riprendere con er Iman non si può riprendere con man ma vediamo alcuni esempi allora il pronome si impersonale si traduce con man in minuscolo e sempre al singolare quindi ad esempio possiamo dire siamo d'attualità perché wenn man in den supermarkt muss man eine Schutzmaske tragen ormai da mesi portiamo la maschina quando andiamo al supermercato se si va al supermercato bisogna si deve indossare la mascherina abbiamo quindi man nella principale e nella subordinata Iman invece significa qualcuno wenn jemand etwas verlohren hat kann er im segretariat nachfragen se qualcuno ha perso qualcosa può chiedere può andare a chiedere in segreteria quindi Iman e poi si deve riprendere nella frase principale con er il verbo rispondere può essere tradotto in tedesco con due verbi abbiamo la costruzione con jemandem antworten auf quindi con il dativo per la persona e auf più accusativo per la cosa ad esempio ich antworte dir auf deine frage quindi io rispondo alla tua domanda poi c'è anche a te quindi sarebbe il dativo e poi abbiamo jemandem beantworten quindi abbiamo il dativo sempre a qualcuno ma poi il qualcosa viene espresso con il complemento oggetto quindi avremo la frase ich antworte dir deine frage e non avremo più quindi la preposizione auf più accusativo molti verbi che cominciano con be non hanno la preposizione quindi sono verbi transitivi il prossimo verbo è incontrare incontrare si può tradurre in tedesco sia con treffen che con beginnen incontrare casualmente è beginnen ha un participio passato che è accompagnato dall'ausiliare essere quindi si dirà is begegnet è un verbo debole quindi un verbo regolare ma ha questa particolarità vediamo un esempio am samstag bin ich im park meinem Lehrer begegnet quindi avrò il complemento di termine avrò il dativo poi abbiamo anche un altro verbo per dire incontrare treffen spesso è riflessivo come in questo caso incontrarsi quindi con appuntamento sich treffen che è un verbo forte quindi un verbo irregolare trifft sich traf sich e hat sich getroffen si trifft sich jeden morgen mit ihrem freund im fitness center quindi ogni mattina si incontra con il suo amico con il suo ragazzo in palestra problema rappresentato dai verbi folgen e befolgen in realtà il significato è semplice è seguire seguire posso tradurlo con folgen in realtà jemandem folgen quindi con il dativo in questo caso è un verbo regolare ma anche in questo caso abbiamo l'ausiliare essere al perf quindi si dice ist gefolgt vediamo un esempio ich folge deinem rachlag seguo il tuo consiglio quindi richiede il dativo possiamo però usare anche l'altro verbo che è befolgen che invece non è più jemandem ma è jemandem quindi è con l'accusativo jemandem befolgen in questo caso abbiamo anche l'ausiliare avere perché come tutti i verbi che cominciano con be sono transitivi quindi avremo ich befolge deinen rachlag con l'accusativo gestelt oder gestanden abbiamo due participi passati uno è debole gestelt l'altro è forte gestanden in realtà si tratta di due verbi diversi stellen significa mettere in posizione quindi verticale stellt stellte ad gestalt è un verbo debole l'altro invece significa stare in posizione orizzontale per esempio una bottiglia che sta sul tavolo ma anche per esempio un piatto o un bicchiere in tedesco si dice teller und gläser stehen auf dem Tisch e in questo caso abbiamo un paradigma irregolare steht stand e ad gestanden esiste anche la variante ist gestanden che viene usata al sud soprattutto la Germania anche in Svizzera tedesca e in Austria in questo caso si tratta di un verbo irregolare vediamo un esempio con stellen ich stelle das Glas auf den Tisch quindi in questo caso io metto il bicchiere sul tavolo avremo quindi io come soggetto stelle poi avrò il complemento oggetto con l'accusativo in questo caso das Glas e poi le preposizioni avranno l'accusativo quindi auf più accusativo perché è la domanda che io mi devo porre in questo caso è wohin stelle ich das Glas se abbiamo wohin avremo come risposta sempre auf den Tisch con l'accusativo e a questo punto se io metto la frase al perf diventa ich habe das Glas glas auf den Tisch gestelt ecco dove appunto ecco il verbo gestel che abbiamo visto prima se facciamo la stessa frase con l'altro verbo dovremmo chiaramente togliere il soggetto io perché non sono più io che faccio l'azione di mettere perché è già lì il bicchiere lo descrivo quando è già stato messo in posizione appunto orizzontale sul tavolo quindi das Glas steht auf dem Tisch in questo caso abbiamo il soggetto che è das Glas quello che prima era il complemento oggetto diventa il soggetto das Glas steht la stessa preposizione che prima aveva l'accusativo adesso avrà il dativo perché il verbo steht è un verbo di stato richiede il dativo quindi avremo auf dem Tisch auf richiede il dativo perché la domanda è wo steht jetzt das Glas auf dem Tisch se dovessimo mettere adesso anche questa frase al perfetto avremmo das Glas hat auf dem Tisch gestanden allora gelicht oder gelegen ecco qui è un po' la stessa cosa di prima in questo caso abbiamo anche due verbi che si assomigliano abbiamo legen che appunto significa mettere in posizione orizzontale quindi un verbo regolare legt gelegt legte hat gelegt e poi abbiamo il verbo liegen che è un verbo forte irregolare che ha un paradigma liegt la hat gelegen anche in questo caso al su si usa ausiliare essere ich lege mich auf die couch quindi mi mi sdraio sul sul divano ich lege mich ins bed posso anche dire poi qui sull'uso le preposizioni vi ho il video sulle preposizioni quindi sul divano si dice auf die couch però si dice però si dice in den zessel però si dice ins bed quindi è tutto strano e se io metto la frase al perfect diventerà ich habe mich auf die couch oder ins bed gelegt quindi gelegt quindi con la T se invece sono già sdraiato sul divano dirò ich lege auf der couch ich lege im bed al perfect la frase diventerà ich habe auf der couch oder im bed gelegen vediamo ora la differenza che c'è tra gesetzt e gesessen anche in questo caso abbiamo due verbi diversi abbiamo il verbo setzen che vuol dire in realtà usato soprattutto se riflessivo sedersi sedere che è regolare quando è di movimento quindi setzt setzte al gesetzt è un verbo debole mentre è forte quando è essere seduto quindi sitzen sitzt saß al gesessen avremo quindi un esempio ich setze mich auf den stuhl mi siedo sulla sedia oppure ich setze mich in den sessel ich setze mich in den sessel perché la poltrona appunto richiede in se mettiamo le frasi al perfekt diventa ich hab mich auf den stuhl oder in den sessel gesetzt quindi avremo mi sono seduto sulla sedia o in poltrona se invece abbiamo la stessa frase con l'altro verbo avremo ich sitze quindi anche in questo caso il verbo essere seduto io sono seduto sulla sedia oppure in poltrona e diventerà al perfekt ich habe auf dem stuhl oppure im sessel gesessen vediamo ora la differenza che c'è tra gehängt e gehangen allora anche in questo caso hängen significa appendere ed è un verbo di movimento quindi è un verbo regolare hängt hängt e hat gehängt quando invece hängen è un verbo forte quindi è un paradigma irregolare quindi come hängt hing e hat gehangen significherà essere appeso esempio ich habe die hacke an den hacken gehängt quindi ho appeso la mia giacca al gancio indicato rub avrei potuto anche dire nel guardaroba in questo caso die hacke hängt jetzt am hacken e se abbiamo la stessa frase al perfect avremo die hacke ad am hacken gehangen quindi gehangen è il participio passato del verbo di stato quindi la giacca è stata appesa al gancio quindi am hacken gehangen vediamo poi la differenza che c'è tra la congiunzione den e la congiunzione weil una è quella del gruppo ad uso che è den che quindi introduce una frase principale mentre weil introduce una frase subordinata quindi avrà il verbo alla fine den quindi avremo una frase come questa ich bleibe zu Hause denn ich bin krank quindi den soggetto verbo non c'è quindi nessun verbo alla fine non è una subordinata è una principale weil invece richiede la trasposizione cioè la struttura della frase subordinata quindi verbo alla fine das verb steht im nebensatz amende perché avremo quindi ich bleibe zu Hause weil ich krank bin il verbo bin quindi alla fine della frase che si